Buongiorno amici di Qui Bologna TV e benvenuti all'undicesima puntata della rubrica a movies dedicata al cinema. Oggi vi parlo del film Come un Tuono di Ryan Gosling. E adesso passiamo al racconto del film. Luke Glanton è un famoso stuntman motociclista di spettacolo che vive ogni giorno della sua vita all'insegna del pericolo. Un giorno, un po' per caso, un po' per destino, incontra la sua ex compagna romina, cameriera in un ristorante, dalla quale scopre di avere un figlio. Da quel momento Luke non capisce più niente, non riesce a farsi una ragione della notizia datagli dalla ex compagna romina e decide di invertire la rotta, dandosi alla criminalità e compiendo di volta in volta rapide nelle banche e azioni illegali di ogni tipo. Luke non riesce più a controllare se stesso e le proprie azioni, finché sulla sua strada non incontra Avery Cross, un giovane poliziotto il quale durante il corso del film sconvolgerà la vita dello stesso Luke e di tutte le persone che gli sono intorno. Diretto da Derek John Frank e interpretato dall'incomeabile Ryan Gosling, il film mette in tavola temi di importante valore, tra i quali emerge in particolare quello dell'importanza di essere genitore in questa circostanza padre. È evidente l'importanza, arrivati a un certo punto della propria vita di sapersi assumere le proprie responsabilità, affrontando i problemi di ogni giorno e indirettamente la vita. Sai una cosa? Se corri come un fulmine ti schianti come un tuono E anche per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao amici di QuiBolognaTV dal vostro Alberto Santaniello Ciao amici! Ciao amici! Ciao amici! Ciao amici! Ciao amici! Grazie.